Andiamo ad approfondire l'argomento. Allora, lo spirito. Lo spirito scaturisce dall'intelligenza o spirito creativo del cosmo, come abbiamo detto. Lo spirito coordina, istruisce, determina e produce il processo operativo dell'astrale, il processo operativo dell'anima, diciamo la vitalità dell'anima, con cui lo spirito è sempre in contatto, lo spirito è sempre in contatto inseparabile durante i cicli incarnativi, durante i cicli sperimentativi e operativi, nelle dimensioni spazio-temporali. L'intelligenza, spirito, quindi, è anche un memorizzatore, un memorizzatore multidimensionale, è depositario di tutte le esperienze vissute, di tutte le esperienze che sperimentiamo nelle diverse dimensioni, sia nella dimensionalità, nell'espressione dimensionale sensoriale, sia in quella emozionale, materiale e immateriale. Lo spirito memorizza tutto, noi memorizziamo tutto. Poi vedremo anche, sarebbe importante, non so se riusciremo a trattarlo oggi, anche l'aspetto della coscienza, che cos'è la coscienza e quale ruolo svolge in questo specifico ambito di memorizzazione delle esperienze vissute. È un'attività importantissima quella della coscienza. Quindi, lo spirito intelligenza è la reale natura divina, la nostra reale natura divina. Non occupa spazio e non è vincolato dal tempo. Lo spirito, possiamo dire che lo spirito è Dio, è la divinità, lo spirito stesso è Dio. E' la coscienza solare, è l'edificatore dei voleri del grande padre creativo, che risiede al centro di ogni universo. Questo è lo spirito, questo noi siamo, noi siamo questo. Siamo delle divinità che hanno dimenticato di essere tali, bisogna ricordarlo, bisogna attraverso il percorso di crescita ricordare che siamo delle divinità. È un po' la parabola del figlio al prodigo, no? E' un po' la parabola del figlio al prodigo.